Sindaco Sandro Marinelli, da oggi a Pianella partono ancora una nuova serie di vaccini, questa volta su chi usufruisce della legge 104 e i propri cargiver e intanto nei giorni scorsi sono finiti quelli sugli over 80. Sì, abbiamo fatto i primi tre giorni di questa settimana, la dose di richiamo per gli over 80 ai quali era già stata somministrata tre settimane fa la prima dose e li abbiamo completati la giornata di ieri. Quindi oggi, la quarta giornata, ci accingiamo ad iniziare con i 104 in condizione di gravità e i loro cargiver. Sì, è chiaro che si crea un po' di disorientamento perché queste notizie non sono sicuramente tranquillizzanti per chi deve sottoporsi comunque al vaccino. In ogni caso, per quanto riguarda il nostro osservatorio, possiamo dire che c'è assoluta tranquillità, non abbiamo avuto problemi di alcun tipo in ordine alle reazioni. C'è tutta la struttura organizzativa e qui con me il vice sindaco con il quale ogni giorno presidiamo dal punto di vista organizzativo le operazioni, ma davvero noi non possiamo che fare un plauso alla ASL per la professionalità messa in campo e devo dire che finora le cose sono andate assolutamente per il meglio, anche dal punto di vista proprio medico-sanitario, oltre che organizzativo. Quindi abbiamo fiducia che anche con l'avvio delle dosi di AstraZeneca si prosegue su questa strada. I vaccini vanno avanti, ma c'è sempre la pandemia da tenere sotto controllo. A Pianella è rientrata, la situazione sta rientrando, come si trova? Sì, dopo il picco del mese di febbraio abbiamo sicuramente avuto un rientro importante perché adesso al momento abbiamo 28 casi attivi sul nostro territorio che sono gestiti dal punto di vista sanitario per la quasi totalità in via domiciliare, per cui sicuramente il dato è importante. È giustissima la considerazione sul fatto che è una fase assolutamente cruciale quella dell'andamento parallelo dei vaccini e della ripresa di alcune attività, primo fra tutte l'attività scolastica, quanto mai importante per i nostri ragazzi. E proprio per questo giovedì prossimo abbiamo programmato i test per tutta la popolazione scolastica, unitamente al personale docente e non docente, proprio per avere il polso della situazione e prevenire eventuali ipotesi di contagio interno all'istituzione scolastica.